Amici di Teledeon, ben trovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Nello scorso weekend sono state finalmente presentate le liste elettorali e quindi è cominciato il rush finale verso l'appuntamento del 20 e 21 settembre, quando si tornerà a votare, non soltanto per il referendum, non soltanto per il Consiglio regionale, ma anche per città importanti del nostro territorio. Tra queste Trani, che torna alle urne per rinnovare il Consiglio Comunale, per scegliere il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni. Incontriamo uno dei candidati, uno dei protagonisti di questa competizione elettorale. Grazie per essere con noi, Beppe Corrado, consigliere comunale uscente, consigliere provinciale, ma è soprattutto candidato al Consiglio Comunale nella lista con Emiliano, lista civica del Presidente del Governatore Pugliese. Come detto, dunque, sono state ufficializzate le liste. Si può dare anche un'occhiata generale, panoramica. Che sensazione ha dopo la presentazione di queste liste? Direttore, c'è a dire questo che inevitabilmente la composizione delle liste da parte di tutti è stata un po' problematica, dettata anche da una campagna elettorale comunque anomala, che viene subito dopo un periodo come quello del lockdown, della pandemia, che credo abbia spostato un po' l'attenzione su problematiche più serie. E quindi per molte liste civiche, anche per molti partiti. Non è stato semplice, in pieno agosto, costituire le liste per la competizione. È un dato di fatto, bisogna esserne coscienti, perché poi c'è anche una problematica che proprio nasce a monte. C'è quello che da anni i partiti storici hanno terminato di fare anche la cantela durante il calcio, cioè la creazione di una squadra di ragazzi che cresce, che possa arrivare poi anche a, come è capitato a noi, come è capitato al sottoscritto e a tanti altri. Ma questo è un problema un po' che abbiamo riscontrato anche negli altri anni, in altre città. Però tutto sommato il quadro è abbastanza chiaro. Ecco, nuove liste, Amedeo Bottaro, altre liste ovviamente presentate dagli altri candidati. I rapporti di forza come sono, secondo lei, alla fine della presentazione delle liste? Perché di solito si dice, bisogna per capire realmente come sarà il voto dei cittadini, bisogna aspettare la composizione delle liste, perché il voto amministrativo locale è sempre molto condizionato dalla qualità delle liste. La collezione che ci vede in prima linea, quella che fa riferimento appunto al sindaco Amedeo Bottaro, è una collezione comunque abbastanza eterogenea, composta da nove liste, vede partiti come il partito del Partito Democratico, che è il partito di immaginanza relativa, che nella scorsa tornata ha eletto ben nove consiglieri comunali, quindi un partito importante. C'è anche una realtà che è quella della lista regionale, che è quella della contenitore di noi a sinistra, che vede anche quindi una composizione dei socialisti, dei verdi e di noi a sinistra, quindi una lista strettamente di natura partitica e poi una serie di liste civiche, tra cui anche quella nostra, che fa riferimento a Michele Emiliano, che è una lista civica che ha visto anche la composizione all'interno della candidatura al Consiglio regionale, in cui noi abbiamo anche, voglio ricordarlo, un candidato alle regionali, che è il dottor Domenico Briguglio, che è un punto di forza della nostra lista e che sicuramente sarà, devo darle atto, che con la lista alle regionali c'è una serie concreta, possibilità, forse una delle poche volte in cui l'amico Mimmo è in grado di poter legge per trani, è una partita importante. La lista che abbiamo messo su, perché dico abbiamo, perché è stata una lista condivisa e creata da un percorso in aziotto umano, che poi lei dottore sa perfettamente che io quando c'è condivisione, quando c'è... E quella la molla. Ma è quella che mi fa scattare, perché anche in questa tornata elettorale potevo scegliere una lista civica anche quella del sindaco o altre. Invece ancora una volta mi sono messo in discussione, ma l'ho potuto fare perché da più di ormai, da quasi due anni, con amici come l'avvocato De Feudis, Leo Moruso, con Marina Nenna, con Cecilia Di Lernia, con Mimmo, con tanti altri, con l'associazionismo, il mondo dell'associazionismo, come quello che fa riferimento al candidato Vincenzo Tuputi, al mondo sindacale con Claudio Biancolilo. Non vorrei dimenticare nessuno, perché è una lista veramente ben composta, non ci sono già coppie, coppiette definite. È una delle poche liste che ha anche all'interno le varie professionalità, è un giusto mix tra competenze e esperienze. Ci sono gli anziani come me in questa tornata che ormai da qualche anno hanno l'onore di rappresentare la città e la provincia, però c'è anche tanta gente che in questi anni non ha abbandonato la politica. Da Claudio Biancolilo a Vincenzo Tuputi, che sono due ragazzi che stanno con noi, nelle scorse competizioni elettorali non sono stati eletti, ma non si sono fermati, hanno continuato a lavorare. All'interno abbiamo comunque l'assessore uscente Marina Nenna, che è l'assessore dell'attività produttiva, che è un dato di fatto, è veramente importante, ha fatto dei prevedimenti importanti. Come dimenticare l'amico Mimo Briguglio, che ha dato una svolta con l'assessorato ai lavori pubblici, è un dato di fatto. O l'esperienza anche dell'avvocato Leo Moruso, che è un consigliere comunale uscente, che è anche a capo della commissione urbanistica, ha contribuito a sviluppare una serie di progettualità, di crescita della città. E poi il sanguigno Donato di Paolo, che è un consigliere che è subentrato un anno e mezzo fa, come lui ama definirsi uomo della strada. Ma non voglio dimenticare anche candidati che hanno fatto un percorso e sono professionisti, sono avvocati, sono medici, sono geometri, che in questi anni con noi hanno contribuito e hanno lavorato e oggi non sono candidature estemporanee o candidature finie a se stesse. Anzi, è un percorso che abbiamo incominciato qualche anno fa e che oggi deve proseguire, perché forse manca proprio questo oggi in generale, cioè quella della continuità di un percorso e la possibilità anche a chi vuole intraprendere e mettersi in gioco e dire la propria, portare il proprio contributo alla crescita della città. Noi abbiamo questo obiettivo, non vogliamo entrare in polemiche esterni, vogliamo contribuire alla crescita del nostro territorio e contribuire con fatti, con idee, cercando di elevare la qualità di questa città. Perché poi, direttore, se si vuole candidare, se si candida tranne a città della cultura italiana, dobbiamo, da contraltare, elevare la qualità anche della classe politica. Ecco, infatti, quando comincia il nuovo percorso di un consiglio comunale, la prima cosa che si dice abitualmente è adesso vediamo se siamo riusciti a portare in consiglio una qualità umana, professionale, prima di tutto, prima ancora appunto dell'appartenenza politica. Vedendo le liste, lei ha questa impressione che possa essere un buon consiglio comunale il prossimo, guardando anche maggioranza e futuro opposizione. Ma anche perché amici che rimangono tali nell'attuale centro-destra, c'è gente d'esperienza, gente che in passato ha contribuito alla crescita di questa città e che poi, francamente, avere come avversario l'avvocato Filiberto Palumbo non può che essere stimolante, è una personalità di assoluto spessore, autorevolezza. Noi ci auguriamo che stia all'opposizione, come giusto che sia, ma come abbiamo avuto modo di dire più volte in quest'ultimo periodo, terminata la campagna elettorale, credo che chi vince avrà l'onore di governare la responsabilità, ma non potrà prescindere da un confronto serio con l'opposizione. E non è una frase fatta, perché dottore, la crisi economica non è terminata, la crisi è dettata già da un pregresso che la città si stava trascinando, ma in particolar modo anche da un lockdown in cui veri effetti si avranno a fine anno. Quindi è inevitabile che i progetti di crescita della città si incominciano sempre di più a intravedere, abbiamo, è negabile, non possiamo non, non, anche da pari, anche gli amici dell'opposizione del centro-destra, io li vedo Pasquale di Toma, li vedo Andrea Ferri, li vedo Emanuele Cozzo, giusto per citarne qualcuno che rappresentano comunque per me delle amicizie, come posso dimenticare Alfonso Mangione con cui ho incominciato più di 25 anni fa un percorso insieme al centro-destra. Rimangono quei rapporti. Qual è la parte sana del centro-destra, che ha esperienza, ha capacità e che può rappresentare, mi dica, una buona opposizione, una opposizione costruttiva. Poi ci sono altri schieramenti, altri partiti come quelli della Lega, su cui io vorrei evitare, perché la Lega di oggi non è altro che la Puglia prima di tutto dell'epoca riservato, con qualche burattino che continua a gestire e a fare una politica che non è propositiva, ma è in effettiva attraverso i social, è una politica di attacchi personali. Io non ho vissuto già quell'esperienza. Ecco, a questo proposito vorrei spendere qualche parola per cercare di riportare il clima politico della competizione elettorale in un clima sostenibile, perché poi ci sono degli eccessi che rischiano di turbare la competizione elettorale. Che impressione ha? Le prime battute di questa campagna elettorale, devo dare atto, i primi interventi dell'Avvocato Palumbo sono comunque interventi pur se non condivisibili, ma comunque nell'ottica di un confronto sano. E mi auguro che si continui in questa direzione, perché noi vogliamo confrontarci su quello che oggi è rispetto a cinque anni fa la città, è innegabile direttore quello che era la città nel 2015, non possiamo dire di no. Poi si poteva fare molto meglio, non lo so, però francamente le condizioni iniziali erano quelle che erano, ma non per continuare, per fare ragionamenti di debiti o di scaricare, è un dato di fatto. Il centro-destra che per fortuna oggi non esiste più o comunque non è più al governo di questa città è stato deleterio per la città, per i cittadini tranesi, la città ormai è sul loro di un baratro e inevitabilmente l'amministrazione Bottaro ha, anche con una grande difficoltà, pagando lo scotto iniziale dalla mancanza di esperienza del sindaco, con una serie di aggiustamenti in corso d'opera, sì, legittimi, che però hanno visto comunque oggi è innegabile che la città è in una fase di crescita e non dobbiamo fermarla. Proviamo a fare una fotografia della città cinque anni fa e una fotografia di oggi, quali sono le differenze essenziali che le riscontrano? Direttore, ne abbiamo già discusso, io vorrei partire dalla macchina comunale, cinque anni fa nel 2015, al di là delle problematiche relative alla Corte dei Conti che erano sotto gli occhi di tutti, oggi non siamo più osservati, ma c'è un dato, non c'erano dirigenti perché qualcuno ci aveva fatto la famosa lavagna pulita, cancellando una classe dirigente e poi la cosa che specie che poi gli stessi oggi sono con la Lega che continuano a gestire determinate operazioni. La macchina comunale era disastrosa, c'era molta gente andata in pensione non sostituita, non voleva venire nessuna a Trani, oggi la macchina comunale che corre, c'è un ufficio tecnico che corre, che è ben strutturato, poi finalmente è stato chiuso l'iter per arrivare a bandire i concorsi dopo 45 anni, c'è un corpo di vigili urbani, quante volte abbiamo contestato il fatto di essere pochi? Oggi comunque ce ne sono più di 45, sono pochi certo, ma cinque anni fa ce ne erano 12, come era il lungomare cinque anni fa, era un luogo abbandonato, oggi direttore dove c'è si può verificare che la città è tornata credibile quando il privato incomincia a investire in città. Quando leggo alcune polemiche, io capisco la campagna elettorale, sì l'hanno fatto i privati, i privati investono se c'è un'amministrazione sana, pulita e che crea le condizioni, questa è oggi Trani, perché avere fino a cinque anni fa i chioschetti, erano i chioschetti con tutto il rispetto, ma dove non ci facevano più gare da tanti anni, erano dei chioschetti semplici lungomare, oggi sono dei punti cruciali. Il porto è da migliorare, certo, nella mia idea di porto, il porto che è uno dei cinque porti turistici e naturali d'Italia, nella prossima amministrazione a Guida Bottaro dovrà vedere una riqualificazione, probabilmente chiudere il percorso di Ametting con una, perché lì è inevitabile che è il salotto buono della città. Spostare la Movida sul lungomare verso Biceglie, ma soprattutto il futuro che è verso Barletta, che è quella la zona del futuro della città, perché quello è la riqualificazione sia in ambito di servizi commerciali ma anche in ambito marittimo. E come dimenticare quello che erano le due aziende? Ecco, qui ci arriviamo. Lei ha fatto un riferimento anche ai famosi concorsi. Sì. Concorsi che dopo forse 15 anni, 20 anni? 45. Forse anche 40 anni non veniva bandito un concorso. Ecco, concorsi che sono stati banditi e che sono ormai prossimi alla pubblicazione. Poi come quelli che abbiamo fatto in provincia, quindi anche in provincia finalmente dopo 10 anni, abbiamo recentemente sul Labo Pretorio c'è la ricerca della commissione e anche in provincia dopo 10 anni torneremo finalmente, si tornerà ad assumere. E il Comune di Trani ha dovuto in questi anni, non è semplice arrivare a bandire un concorso. Ecco, perché anche simbolicamente è una rinascita. È un dato. È una rinascita e soprattutto è la dimostrazione di una macchina comunale che funziona, dalle figure apicali, dai dirigenti, fino a derivare oggi ai funzionari, ai dipendenti che corrono. Probabilmente quando sentiamo qualcuno che si lamenta è perché non era abituato a lavorare o forse perché nell'ottica di una riorganizzazione magari dei centri di potere legittimi, nulla di legale, vi sono stati scardinati perché poi quando nell'ottica della rotazione si sposta un dipendente storico che è stato lì per tanti anni, niente di illecito e viene spostato, ma anche per premiarlo. È chiaro che questo può dar fastidio a qualcuno. Ci auguriamo a breve che, dalle notizie che abbiamo, anche su Amio, insomma. Appunto anche Amio. Amio ha fatto un concorso finalmente anche lì dopo dieci anni, lo ha fatto prima del Covid, oltre 3.800 partecipanti. Possiamo dire che non è in pericolo questa... Perché, dottore? No, anzi, noi ci auguriamo sarà la nostra premura sia a livello personale che come lista. Abbiamo avuto rassicurazioni dal amministratore unico dell'Amio non più tardi di qualche giorno fa che terminerà l'era dell'intrinali perché c'è stato il problema del Covid, altrimenti il concorso sarebbe chiuso e che a settembre si concluderà il concorso, anche perché se a giorni parte la raccolta differenziata porta a porta, che inevitabilmente porterà dei disagi ai cittadini, non lo possiamo certamente fare con gli interinali, ma lo bisogna fare con gli indipendenti di amico. Sia per una questione strettamente legata a dare continuità ad un concorso. Abbiamo la certezza, quindi io smentirei qualsiasi, anche perché facciamoci chiaro che magari in campagna elettorale qualcuno può utilizzare, creare delle aspettative, gli interinali termineranno a breve e il concorso Amio verrà ripreso e verrà concluso nel mese di settembre. Amio, l'altra partecipata è l'Amet, Amet che ha vissuto un momento molto critico, adesso si sembra avviata verso un rilancio, ma che ha bisogno davvero di una visione strategica per il futuro? La visione strategica di Amet credo che sia ormai finalmente dopo anni che combatto su questo fronte, perché Amet è un gioiellino e già anni fa, sia durante l'amministrazione Tarantini, sia 1 e 2, si cercò di creare una società prima con ACA Roma e poi interna che era Amet Energia, che anticipasse i tempi e quindi consentisse ad Amet di poter avere una sua azienda che vendesse energia. Oggi il percorso finalmente è tornato sulla stessa direzione, anche qui faremo i concorsi, è notizia di qualche settimana fa, non posso che ringraziare l'attuale CDA che vede a capo l'amministratore delegato, Pino Paolillo, che è una persona a cui mi lega un rapporto speciale di lungo corso, anche lui è stato con noi per tanti anni, come il presidente Francesco De Marinis, che stanno dando quella svolta all'Amet, perché anche lì hanno presentato il piano del fabbisogno, cosa mai fatta, stanno per bandire quindi prima i concorsi interni per la riqualificazione del personale interno e quindi bandiranno i concorsi esterni, perché Amet dovrà avere, dovrà finalmente nascere Amet Trasporti, staccata da Amet, una holding. Una sua battaglia di almeno dieci anni? Beh sì, sono dieci anni, quindi alla fine, direttore, questo quando qualcuno mi chiede perché vai continuare, una delle motivazioni per cui poi si fa politica con le persone con cui riesci a portare a casa i risultati, Amet Trasporti sarà una società sicuramente di riferimento di Amet, ma farà parte di una holding, perché tra l'altro in qualità di consigliere provinciale abbiamo approvato il piano d'ambito provinciale che prevede, ed è stata una mia grande battaglia, che Amet ottenesse l'affidamento in house del trasporto pubblico locale. Ho un solo problema adesso, che con la nascita di Amet Trasporti bisognerà cambiare il management di chi ha gestito male la sezione dei trasporti, i quadri dirigenti, come si chiamano oggi in azienda Amet, perché è un dato di fatto. Nata Amet Trasporti e parcheggi ci sarà Amet Energia, che sarà un'azienda che dovrà inevitabilmente vendere energia, telefonia, fibra e gas. E servizi. E allora siamo arrivati in chiusura, volevo fare un altro paio di riferimenti, ma avremo sicuramente modo nelle prossime settimane di approfondire questi aspetti. Grazie quindi a Beppe Corrado, candidato al Consiglio Comunale nella lista con Michele Emiliano, consigliere provinciale in carica e ricordiamo anche ex presidente della provincia BAT. Grazie per essere stato con noi, non andate via, restate con i programmi di Teledeon.